Bonjour, bonjour a tutto il mondo! Mi vedete? Mi sentite? Non ho messo nessun tipo di zoom, mi dispiace. Ma vieni, tu che fai? Beh, la guardo, prof. Camperi. Oh, mon Dieu, ma sei già in linea? Ma certo, sono cinque minuti che io sono in linea, proprio cinque minuti. E, visto che siamo già collegati, facciamo le parole crociate finché ci aspettiamo dietro i tuoi compagni. Facciamole! Ok, pronto? Prontissimo, mi dica la prima. Malattia che colpisce l'albero di Natale. Diabete. Segni, segni. Certo che segno, certo! Ora dimmi il piatto preferito dai magasinieri. Facile, timballo. Località sciistica degli alcolizzati. Cervino. Piante che trafogano le case. Bucanville. Ma adesso tutte, andiamo, andiamo. Insalata che soffre di invecchiamento precoce. Rughetta. Vediamo se sei questa località bagnare piena di asiatici. Questa è difficile. Terra Cina. Donne che chiacchierano sui tetti. Ancora? Pettegole. Eh, però dovrebbe rispondere anche lei, eh? Un pochino. Ma io sono una prof. Io sono qui per interrogare ma i tuoi compagni. Non li vedo dove sono finiti? Morì per la sorella di mamà. Com'è? Peripezia. 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 Eh no, però, eh. Adesso io pretendo un voto. Eh, mi scusi, eh. Siamo qui da un'ora. Avanti. Peripezia. 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 Del ca, del ca, del cavolo. Due. Dove sono finiti tutti gli altri? Non vedo più nulla. Marini. Sparito. Accendete queste webcam, queste videocamere. Per favore, voglio vedervi in faccia. Mi sembra di parlare con una lavatrice. Ma dove siete finiti?